Musica Qui di seguito si proporrà al pubblico uno dei prossimi risultati elettorali con relative spiegazioni in merito alle scelte. Questo filmato ha l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza ad una discussione aperta e pubblica su quelli che sono pareri con la conseguenza di portare attenzione sulla campagna elettorale che si sta per concludere. Ricordo solo che questo filmato è stato pubblicato il 4 maggio, quindi uno o due giorni prima le elezioni, in maniera questa chiara e sincera. Molti confondono il discutere apertamente, dire le proprie opinioni, con l'essere contro il sistema, un qualcosa che oggi sembra andare quasi di moda. Si potrebbe discutere sul modo, sulle metodologie o sulle capacità delle persone stesse che hanno di portare questo contributo. Ciò non toglie che portare l'attenzione sulle elezioni, sulle liste presentate, significa portare attenzione sulle persone che si sono esposte per rappresentare noi ed il nostro futuro nell'amministrazione. Portare attenzione sulle persone che ci vorrebbero rappresentare e sulla loro campagna di comunicazione che hanno avuto per catturare la nostra attenzione è fondamentale in una democrazia. Naturalmente non solo si è aperti ad ogni critica in merito, ma ci aspettiamo commenti e vostri pareri, a patto che siate sinceri con voi stessi e vi mettete in gioco. Grazie Si ricorda che queste osservazioni prendono solo ed esclusivamente la visibilità che i candidati hanno avuto nella loro campagna elettorale senza tener conto quindi dei loro passati ed altro. Solo la campagna comunicativa che hanno avuto nel periodo in pratica elettorale e poco prima. Innanzitutto un preambolo sulle elezioni, parlando di liste civetta. Queste sono innanzitutto perfettamente legali e democratiche. Sono piccoli partite e liste nati quasi esclusivamente in periodi elettorali. La persona che vuole emergere crea una lista, di solito civica, e raccoglie dei candidati sottoposti a lui. E contando sui parenti ed amici, il capolista riesce ad ottenere un numero sufficiente di voti per poter contare. A maggior ragione conta se questo numero di persone che appoggiano la lista serve a tenere salda la maggioranza. Di questo argomento però sto cercando ancora informazioni in merito. Fatta questa premessa, torniamo ai candidati presenti e cominciamo ad eliminarli più ovvi. Se nella scelta del criterio e la visibilità, come già stato detto, un candidato che non frequenta San Delpidio e non si mostra alla sua campagna elettorale e quindi non la fa, potrebbe essere facilmente il primo candidato ad essere eliminato. Stiamo parlando di Roberto Sarbatini per il Movimento 5 Stelle. Di seguito c'è un gruppo che ha avuto poca visibilità dovuta a vari fattori, tra i quali, a detta del candidato sindaco, l'inizio della campagna dopo la reinclusione tra le liste da parte del Tarra per un ricorso. Quindi ha iniziato una campagna elettorale in ritardo rispetto a tutti gli altri, nonostante la visibilità in ambito nazionale. Parliamo della lista SEL con Platano. Si è scelto di scattare successivamente Mariani, che nonostante abbia fatto parte della giunta precedente, è rimasto poco visibile rispetto a tutti gli altri. A questo punto si eliminerebbe dal gruppo anche Valentini. Delle quattro liste che appoggiano il candidato sindaco, l'unica già conosciuta nelle scorse elezioni è il PDL, del quale ha una bassa percentuale di votanti in questo territorio. Questa destra, inoltre, ha scelto un candidato molto poco visibile nel territorio. Ha lavorato nella ditta di Fradalocchi, se non vado errato, ma per 30 anni, per questo motivo, ha lavorato a Roma, anche se il fine settimana ritornava nel territorio. Perché la destra non ha saputo scegliere un candidato più presente nel territorio? O comunque più visibile? Ed ora eliminiamo dalla lista Ursili. Tra le due liste di appoggio ad Ursili non c'è una lista particolarmente visibile. nonostante il suo appoggio da parte di Franca Romagnoli, di Futuro e Libertà, una persona molto in vista nel territorio locale, vista anche la sua presenza nel Consiglio regionale, sta di fatto che un simpatizzante della Romagnoli cerca il suo simbolo, che non è presente nella lista Ursili. De conseguenza non si sente legato a votare Ursili. Quindi, dal punto di vista d'immagine, il simbolo è molto. Ed ora? Perché? Perché proprio Terrenzi? Uno, è facile criticare un'amministrazione che è già amministrato, quindi che ha fatto qualcosa. E questo su una campagna elettorale, se lo si fa notare, ha il suo peso. Secondo, andare via dal partito, quali che siano le motivazioni, aggiunge positività all'immagine del candidato. Terrenzi ha iniziato la campagna elettorale molto tempo prima, rispetto a tutti gli altri, con una presenza di visibilità nel territorio quasi, oserei dire, opprimente. Quattro, il lavoro di Terrenzi gli permette un'ottima conoscenza del territorio, una grande visibilità, rispetto ad esempio a Valentini, come dicevamo prima, che non era nemmeno sul territorio, lavorava a Roma. Terrenzi, grazie alle situazioni sopra descritte, non ha nemmeno bisogno di accordi nel ballottaggio per vincere. Queste osservazioni, se esatte, permetterebbe la governabilità da parte della giunta Terrenzi in maniera serena e quindi si augura a questa giunta una buona gestione del territorio. Si ricorda infine che siete tutti i nostri dipendenti e quindi ci aspettiamo molto da voi se non volete perdere il vostro posto di lavoro. Prima di concludere questo video, vorrei lasciare delle domande a cui io non so rispondere. Come mai una lista così ben salda e hanno nominato Terrenzi come sindaco? Sarebbe stato normale vedere Lattanzi come sindaco e Terrenzi come una lista d'appoggio. La destra non è riuscita a coalizzarsi o non si è voluta coalizzare? Naturalmente, per i motivi che si citavano prima nel preambolo, se i candidati vorranno chiamarmi per realizzare un video con le loro osservazioni e commenti in merito a questo video, sono certo che tutta la cittadinanza, comunque sia, abbia guardato il video, apprezzi il gesto, la mia naturalmente è una proposta.